La disputa energetica tra Grecia e Turchia potrebbe arrivare al Parlamento europeo, che si riunisce la prossima settimana. La presenza militare turca nel Mediterraneo orientale inquieta non poco Bruxelles, che non esclude sanzioni. In queste settimane non c'è stata nessuna evoluzione positiva. Delle sanzioni europee sembrano quasi inevitabili. Non possiamo lasciare che la Turchia avanzi le sue posizioni militari in questo modo. Ma delle sanzioni contro la Turchia, che è un partner nato e fondamentale sponda all'immigrazione verso l'Europa, sembrano a dir poco complicate. Penso che solo un cambio di leadership politica in Turchia possa davvero porre fine a questa tensione. La leadership attuale infatti ha deciso, per diversi motivi, di aumentare la sua influenza esterna in paesi come la Libia o la Siria, e ora sempre di più anche nel Mediterraneo orientale. In vista della plenaria del Parlamento europeo della prossima settimana, il gruppo dei socialisti insieme agli eurodeputati greci e ciprioti proporranno di inserire nell'ordine del giorno un dibattito e una risoluzione sulla presenza militare turca nell'Egeo. Le tensioni tra Grecia e Turchia si sono riaccese dopo che entrambi hanno firmato accordi concorrenti sullo sfruttamento di idrocarburi sui propri confini marittimi. E' davvero molto triste vedere un paese candidato all'adesione all'Unione europea comportarsi in questo modo. La Turchia, invece di avvicinarsi, continua ad allontanarsi dagli standard giuridici europei e si scontra completamente con le politiche e gli interessi comunitari, per non parlare del dispiegamento delle navi militari, che svelano uno scenario inquietante. Per ora il Parlamento europeo si è limitato a supportare la posizione dell'alto rappresentante dell'Unione europea, Joseph Borrell, che ha chiesto ad Ankara di astenersi da misure unilaterali che alimentano la tensione nel Mediterraneo orientale. Gli scenari sono principalmente due. O la Turchia ritira le sue navi militari dall'Egeo, oppure lo sconto prima o poi potrebbe diventare inevitabile. La crisi dell'Egeo sarà discussa al prossimo Consiglio europeo del 24 e 25 settembre. Nel frattempo la Grecia resta in massima allerta.